Il Consiglio Comunale Grande attesa per la mozione di sfiducia politica che approva in aula Intanto l'associazione Alghero Next chiede responsabilità ai consiglieri con l'auspicio di ritornare presto alle elezioni per uscire da questo pantano Quello attuale è un momento storico molto difficile in cui è necessario avere dei governi centrali e locali che diano la possibilità di realizzare progetti per lo sviluppo, crescita e creare lavoro Oggi la disoccupazione è alle stelle, Alghero si conferma da record Intanto riguardo l'igiene urbana lo spazzamento delle strade è divenuto un ricordo lontano E per lo sport il calcio, ieri partita di Coppa Italia per il Fertilia sconfitto al Mariotti 1-0 dal San Teodoro Discorso qualificazione dunque rinviato alla gara di ritorno Parleremo anche dell'Alghero Bike Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Catalan TV Come avete sentito dai titoli del nostro sommario domani ci sarà il consiglio comunale Dopo una lunga pausa in cui la macchina amministrativa non ha prodotto alcuna delibera Riprendono i lavori dell'assemblea civica Grande attesa per la mozione di sfiducia politica che approda in aula Intanto l'associazione Alghero Next chiede responsabilità ai consiglieri Con l'auspicio di ritornare presto alle elezioni per uscire da questo pantano che sta soffocando la città Non si contano più le dichiarazioni, note stampa e comunicazioni Che condannano l'attuale situazione politico-amministrativa in cui si trova Alghero Ultima in ordine di tempo all'associazione Alghero Next Movimento composto da giovani dell'area moderata Che nell'ultima campagna elettorale hanno sostenuto la candidatura di Francesco Marinaro a sindaco L'instabilità che sta caratterizzando il centro-sinistra locale Unitamente agli impegni elettorali disattesi dal sindaco Rendono necessario che la parola torni agli elettori Perché possa avviarsi un percorso nuovo di crescita socio-economica della città Auspichiamo, dicono d'Alghiero Next Un'azione responsabile da parte di tutte le forze politiche locali La nostra Alghero merita di ripartire con rinnovato entusiasmo e fattivo perosità È un processo ineludibile dovuto nei confronti di tutte le generazioni Quelle presenti e passate Ma soprattutto quelle future Alle quali dobbiamo garantire che il cambiamento, quello vero, è possibile Ma tralasciando Alghero Next C'è da evidenziare che l'alleanza oggi all'opposizione che ha sostenuto Marinaro Comprendeva le forze moderate anche quelle autonomiste Come il Pisdaz, oggi presente in aula con Mauro Giorico Se tutti gli altri partiti sono stati molto chiari Riguardo il voto positivo alla mozione di sfiducia E al definire chiusa l'esperienza Lubrano Così non si può dire dei quattro umori Tanto è vero che stanno circolando delle voci Riguardo la possibile assegnazione di una delega assessoriale ai sardisti Con l'obiettivo di salvare il sindaco dalla sfiducia dell'aula Eventualità poco realizzabile Vista la strana alleanza che si andrebbe in aula a creare Sinistra radicale con frange di centrodestra E soprattutto visto il tradimento all'alleanza elettorale e sostegno di Marinaro Di solo pochi mesi fa La piaga della disoccupazione è un fenomeno dilagante Che non risparmia nessun settore Anche ad Alghero sono tanti i giovani che per mancanza di lavoro Decidono di andare all'estero Occorrono soluzioni e interventi per poter ripartire Con progetti utili a combatterla La mancanza di un posto di lavoro è sicuramente una piaga dolorosa In una società che per restare in piedi e andare avanti Deve essere formata da persone che possono provvedere al loro sostentamento La disoccupazione che in Sardegna ha raggiunto percentuali altissime Alghero non fa eccezione Fa sì che davvero tanti giovani cerchino fortuna in altre regioni E in molti casi che le ascino addirittura all'Italia per lavorare all'estero Un quadro triste che incontra la desolazione nelle parole di molti adulti Già pensionati che vedono i figli costretti ad allontanarsi dalle proprie origini E dalla propria terra per poter trovare una forma di guadagno In questo periodo travagliato e attanagliato da una forte crisi economica In quasi tutti i settori ora è mai impossibile trovare un posto di lavoro Per le stesse aziende realtà produttive è difficile poter assumere E anche se il bisogno non manca Non ci sono le condizioni per poter ampliare il personale O in molti casi purtroppo per poter proprio andare avanti Le cronache di tutti i giorni ci propongono situazioni al limite Ed imprenditori che non riescono più a mantenere le loro aziende Famiglie costrette a rivolgersi addirittura alla Caritas Perché mettere insieme il pranzo con la cena è diventata una cosa davvero difficile Negozi che chiudono Ma anche giovani che in un anno riescono a lavorare solo pochi mesi E proprio i dati della Caritas sono esplicativi rispetto alla situazione di povertà Che anche nella nostra città purtroppo è in crescita La mancanza di un'entrata fissa mensile mette in ginocchio tante persone Che si ritrovano anche dopo molti anni di lavoro A pochi mesi dalla pensione senza una soluzione Contenti di emigrare all'estero e che lo fanno solo per pura necessità Negli scorsi giorni il segretario della Filt CGL Boeddu Aveva lanciato l'allarme sui conti della Sogeal Parlando anche di messa in liquidazione Dalla società di gestione risponde il presidente Luzzatti Che oltre a fare chiarezza sulla situazione Annuncia una querela per il rappresentante di categoria Se da una parte è giusto tenere alta l'attenzione sull'aeroporto di Alghero Dall'altra è molto pericoloso diffondere notizie che creano allarme La Sogeal non ci sta E annuncia così una denuncia nei confronti del segretario della Filt CGL Arnaldo Boeddu Il rappresentante di categoria A quanto riscontrato dei vertici della società di gestione Avrebbe diffuso delle notizie false I dati riportati dal signor Boeddu sono dati pubblici Che la stessa società rende tali nei tempi assentiti dagli azionisti E nei modi previsti dalle normative vigenti Reperire i bilanci societari pertanto è esercizio piuttosto semplice per chiunque La loro lettura e soprattutto la loro comprensione Specie nell'ambito delle complesse dinamiche di periodo E invece spiega il presidente Carlo Luzzatti Esercizio più difficile Comunque assai diverso dalla confusa elencazione di dati che li compongono E che nel caso in questione sembrerebbe unicamente diretta la creazione di clamore mediatico I progetti di bilancio degli anni in esame sono stati adottati all'unanimità dal Consiglio di amministrazione della società E quindi presentati all'approvazione degli azionisti E quale sono state doverosamente illustrate e dettagliate Tutte le componenti che hanno portato a cui i risultati di esercizio Nonché le motivazioni su cui è basata la richiesta di aumento del capitale sociale Gli azionisti della società, continuo alluzzatti, hanno approvato quei bilanci Sia quelli inutili che successivi E hanno portato piena conoscenza delle dinamiche che li hanno generati E questo non solo per effetto delle informazioni a corredo dei medesimi Ma per il continuo confronto e per la costante e trasparente dialettica informativa della società Difondere a mezzo stampa allarmi sulla messa in liquidazione e sul fallimento della Sogeal E' fatto grave, specie considerando i suoi possibili effetti sui rating bancari E rispetto agli interlocutori commerciali attivi e passivi di Sogeal E la società si riserva, pertanto, di denunciare il signor Arnaldo Boedu Nelle opportune sedi L'adeguatezza del management continua sempre Luzzatti è soggetta alla valutazione del Consiglio di amministrazione della proprietà In questo momento considerati i risultati complessivi Stante il quadro generale in cui sto operando E non dimenticando lo stato in cui è ereditato l'azienda La società per mio tramite ringrazia il management e particolarmente il direttore generale Mario Peralda Per l'assoluta dedizione e per gli sforzi non comuni con cui è avviato e sta portando avanti La difficilissima opera di normalizzazione e di risanamento societario Confermandogli piena fiducia E parliamo adesso di pulizie e decoro urbano che sono sempre in primo piano Dopo le segnalazioni rispetto al mancato ritiro dei rifiuti Specialmente il vetro in alcune zone della città Oggi diamo voce alla segnalazione di alcuni residenti della zona di Maria Pia Che richiedono lo spazzamento delle strade in quella parte di città Quasi ogni giorno registriamo segnalazioni che giungono alla nostra redazione Rispetto lo stato del decoro urbano in città Oltre al problema dei rifiuti in alcune zone non ritirati regolarmente Adesso viene segnalata la mancanza dello spazzamento di diverse strade Infatti nonostante venga attuato lo svuotamento dei cassonetti Alcune vie non vengono ripulite da mesi Nella zona di Maria Pia sono diverse le parti nelle quali non viene attuato questo servizio E i marciapiedi sono praticamente ricoperti da foglie e rami di alberi In questo caso essendo vicini alla pineta anche di aghi di pino Così come di pigne Un tappeto che con le prime piogge rende i camminamenti abbastanza pericolosi per chi li percorre In attesa del nuovo appalto per l'igiene urbana L'amministrazione ha prorogato di altri sei mesi quello delle Imeri Ma sarebbe necessario nonostante tutte le problematiche presenti e non da adesso Che si fornissero alla città i servizi primari come questi Non siamo cittadini di serie B solo perché abitiamo in una zona che nella cartina non rappresenta il centro della città Ci ha riferito una residente Vorremmo vedere almeno una volta al mese la strada spazzata e ripulita Insomma la questione del decoro urbano sta a cuore agli algheresi Anche se c'è da dire che in molti casi sono le stesse persone ad attuare comportamenti incivili Non preoccupandosi di abbandonare rifiuti in maniera sconsiderata E andando a creare poi cumuli indecorosi di immondizia come spesso accade nella zona di Galbone e Du A questo bisogna aggiungere anche la maleducazione dei padroni Che una volta portati fuori i loro cani non si preoccupano di ripulire dove è stato sporcato Contribuendo così alla crescita della sporcizia ed incuria Continua il percorso verso la definizione della zona franca in Sardegna Impegno che sta portando avanti il presidente Capellacci in accordo con i comitati di settore La giunta regionale presenterà un proprio emendamento di modifica all'articolo 12 dello statuto Prevedendo l'estensione della zona franca a tutto il territorio regionale E' quanto comunicato il presidente della regione Ugo Capellacci e l'assessore della programmazione Alessandra Zedda In merito alla zona franca integrale La nuova formulazione concordata con i rappresentanti dei comitati per la zona franca della Sardegna Maria Rosaria Randaccio, Francesco Scifo e Andrea Impera Prevede che il territorio della regione autonoma della Sardegna E posto fuori dalla linea doganale costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante Nella richiesta di revisione, sottolineano il presidente Capellacci e l'assessore Zedda Punteremo sul fatto che il diritto al riconoscimento di una zona franca estesa a tutto il territorio regionale Non sorgerà con la nuova formulazione Ma esiste da quando è stato approvato lo statuto sardo Ospichiamo che il Consiglio regionale sostenga e recepisca l'emendamento Perché per tagliare il traguardo e rilanciare il nostro sistema economico Non si può prescindere da una fiscalità di vantaggio che deve arrivare dalla zona franca integrale Diamo ora la linea alla regia per la pubblicità Tra poco Grazie Grazie Grazie